Buonasera a tutti, il titolo è provocatorio, ovviamente nasce da una frequente, non tanto frequente fortunatamente, ma è rimbalzata questa informazione, questa affermazione diverse volte negli ultimi tempi che c'è un rischio associato all'uso di lenti a contatto che è quantificabile in una perdita di visione di un occhio al giorno. Quindi è estremamente preoccupante, per me che applico lenti a contatto tutti i giorni mi sono chiesto se dovevo modificare qualche cosa anche soltanto nelle informative rispetto alle persone con cui lavoro e a cui applico lenti a contatto. Come spesso succede, soprattutto sulle notizie sul web, sono rimbalzate, si è arrivato a un passaparola che ha generato addirittura una campagna per fermare la cecità dalle lenti a contatto. Questa è la storia purtroppo di una ragazza che ha avuto una carattite microbica anche molto importante e quindi racconta la sua storia su un blog inglese, poi si scopre soltanto alla fine dell'articolo che soltanto dopo questo incidente, che purtroppo le ha danneggiato permanentemente la sua prestazione visiva, ha scoperto che nell'intera contatto non si lavano le candole, non si lavano mettendole dentro un bicchiere pieno d'acqua. E allora quello di cui stiamo parlando effettivamente esiste ed è anche parecchio frequente, o almeno cercheremo di rispondere a questa domanda di quanto è frequente, che l'uso dell'intera contatto può creare dei problemi di riduzione permanente dell'acuità visiva, cioè creare creativi gravi che comportano una riduzione di spessore, una perdita di opacità, una perdita di trasparenza, quindi un'opacità corneale e un astigmatismo irregolare. Quindi ci sono questi effetti e quindi nasce la paura, nasce la paura, la paura bisogna combattere, il modo migliore per combattere secondo me è quello di documentarsi e tirare fuori dei dati. Quindi quello che vi presenterò sarà una brevissima revisione sistematica su quello che si è cercato di fare, una soluzione, due almeno soluzioni proposte per poter risolvere il problema. Effettivamente la letteratura ci dice che molto frequentemente le keratiti microbiche sono associate all'uso di lenti a contatto e soprattutto ci dice che in una piccola percentuale, mentre è parecchio significativa la percentuale con cui sono associate le keratiti microbiche in lenti a contatto, per quanto riguarda invece la perdita permanente di acuità visiva di almeno due decimi, invece è una piccolissima percentuale. L'altra cosa che ci dice la letteratura di importante è che questa incidenza varia, cioè non è costante, è un valore che varia e varia in funzione della tipologia di lenti a contatto e della modalità d'uso e questa è una buona notizia. Ora qui ho riassunto con un lavoro un po' forzato quasi tutta la letteratura che c'è e l'ho riassunto in questo forest plot, in questo schema grafico che dovrebbe descrivere l'incidenza associata alle keratiti microbiche gravi con le lenti a contatto per tipologia e modalità. Come si legge? Si legge partendo dal quadratino più vicino allo zero, che è quello associato quindi alle lenti a contatto rigide, gas permeabili, corneali, non chiamatele semi rigide, vi prego, rigide, gas permeabili, corneali, subito dopo, che è associato quasi a uno zero, perché vedete l'intervallo di confidenza associato a uno zero due, cioè è veramente molto basso, subito dopo vengono le lenti a contatto morbide a uso di urno, ma se usiamo le lenti a contatto morbide a uso continuo le cose peggiorano notevolmente, questo quadratino si sposta molto più significativamente verso destra, significa che è più frequentemente associato il rischio di keratite microbiche con l'uso di lenti a contatto morbide a uso continuo. Ho inserito anche qualcosa di cui si parla frequentemente, che è l'uso di lenti a contatto rigide gas permeabili a uso notturno, quindi l'orto keratologia, e l'orto keratologia si posiziona su un valore medio attorno, poco inferiore a quello delle lenti a contatto morbide a uso continuo. Bisogna fare alcune descrizioni su questo grafico, alcuni appunti. Il primo è che purtroppo questi dati si fermano attorno al 2008, cioè gli studi epidemiologici sulle keratite microbiche sono vecchi, sono vecchi e quindi mi auguro che tutti gli applicatori e i prescrittori di lenti a contatto non siano più fermi dal 2008 a oggi e abbiano modificato qualche cosa. E invece per quanto riguarda l'orto keratologia non possiamo determinarne oggigiorno con buona e robusta definizione qual è il rischio di keratite microbiche associate, perché vedete che questa linea attorno a questo quadratino è molto molto ambie, come ci ha spiegato stamattina Virgili, non è possibile definire assolutamente qual è il rischio. Ora andiamo avanti con i nostri dati. Quello che sappiamo è che ci sono dei fattori dipendenti, quindi dipende da stato sociale, età, genere, dettagli delle lache, l'abbiamo detto, i più importanti li abbiamo già definiti, dettagli e materiali delle lenti a contatto. Quindi una serie di fattori indipendenti, dipendenti che sono difficilmente misurabili perché associati tra di loro e tra questi forse quelli che hanno maggior peso, anzi non forse, quelli che hanno maggior peso sono sicuramente quelli legati alla manutenzione sia del contenitore che alla tipologia di manutenzione, che agli inquinanti, soprattutto l'inquinante principale è l'acqua e l'uso in ambienti dove non si dovrebbero utilizzare. Mentre cosa diversa sono i fattori di rischio indipendenti, cioè quelli che si possono misurare. Sono riportati in questo grafico brevemente i rischi associati ad alcuni comportamenti. Quel 5-4 volte per significa che la sostituzione poco frequente del contenitore per lenti a contatto comporta un rischio di 5 volte e mezzo rispetto di contrarre cheratite microbica con l'uso di lenti a contatto, a prescindere dalla tipologia e dalla modalità d'uso, rispetto a chi invece lo pulisce correttamente. Quindi tutte queste indicazioni sono sostanzialmente legate all'uso improprio di lenti a contatto, così come confermato anche se diamo un peso a quanto valgono questi fattori di rischio. Cioè l'igiene, la sostituzione poco frequente del contenitore, l'uso occasionale, per uso occasionale minore di una settimana, si intende l'uso frequente che può fare il 18enne, il 19enne, il 20enne che va a fare festa alle mele di sera, trova da dormire da qualche parte, non ha il contenitore, se le tiene, quella notte in più, questo è un fattore di rischio che vale il 23% tra i fattori di rischio, quindi pare che è significativo. Quindi che fare? Che fare è una prima proposta. La prima cosa da fare dovrebbe essere quella di educare gli utilizzatori, cioè consumare tempo che non vuol dire perder tempo, a spiegare quali sono le norme igieniche, a spiegare che non bisogna esporle all'acqua, che bisogna sostituire il contenitore, che bisogna sostituire il liquido di manutenzione, cioè sensibilizzare i segni di pericolo, fare tutte quelle attività che possono istruire le persone a non incorrere nel rischio di keratite microbica. La seconda fase è la fase prescrittiva. Quindi conoscere da piccolo? No, prima, prima. Fornitura di lenti a contatto quando si scopre la gravidanza. La cosa principale è la prescrizione... Mi ha interrotto, mannaggia professor Nucci. L'ha fatto apposta. L'uso di lenti a contatto monouso. Se utilizziamo lenti a contatto monouso e non chiamiamole anche qui giornaliere, perché giornaliere potrebbe prevedere un riutilizzo. Il riutilizzo è molto pericoloso, è tanto più pericoloso quanto gli altri, anche se non abbiamo purtroppo dati aggiornati. Quindi lenti a contatto monouso e riscoprire per favore, sempre più frequentemente, l'uso di lenti a contatto... Prescrivere lenti a contatto regipi corneali, perché lenti a contatto regipi corneali abbiamo visto che sono associate ad un bassissimo rischio. E soprattutto abbinare la prescrizione di lenti a contatto anche ai sistemi di manutenzione. Non mi compro quello che voglio e faccio quello che voglio. E consigliare e raccomandare continuamente visite specialistiche di controllo. Poi educare un po' anche la responsabilità a chi le applica e informare che le lenti a contatto possono far male. E poi l'ultima fase, che è anche la proposta che abbiamo fatto, cercare di aggiornare questi dati epidemiologici che abbiamo, che sono veramente molto vecchi, e utilizzare delle raccomandazioni di buona pratica. Per quanto riguarda l'educazione e le raccomandazioni di buona pratica, Soppi ha fatto un lavoro, ha provato e sta provando a fare un lavoro di informazione comune. A questo indirizzo potete trovare i documenti che possono cercare di aiutare sia la comunicazione col paziente che una gestione comune tra gli specialisti. Quello che invece abbiamo fatto a Torino, dopo aver fatto questa revisione sistematica, abbiamo fatto un questionario. Un questionario derivato già da questionari precedenti. L'abbiamo consegnato a dei pronti soccorsi oftalmici che ricevono keratiti gravi. Abbiamo fatto un test di test su un primo campione per vedere se andava bene. Abbiamo raddrizzato alcune domande. Abbiamo raccolto fino adesso 120 questionari. Dobbiamo fare una seconda fase a giugno di 2019. Che cosa fa questo questionario? Semplicemente cerca di rispondere a quell'aggettivo improprio, indagare a quella fase impropria per migliorare le nostre informazioni su che cosa significa improprio e migliorare quei documenti e quell'informazione che dobbiamo dare alle persone. Ringrazio le persone che stanno collaborando attivamente a questo progetto, che sono Marina Serio, Cirillo Pasquale, che è un ortotista di Napoli, che si è dato molto da fare nel fare soprattutto la validazione test di test, Emanuele Mati, che è il tesista. E con questo io ho concluso. Vi ringrazio. Grazie.